vediamo una presenza di tutto il mondo in particolare quest'anno il ritorno dell'asia cina in primis ma anche corea giappone thailandia indonesia india è un mercato sicuramente emergente molto importante in crescita stati uniti e poi tutto il mondo middle east quindi emirati arabia saudita eccetera che sono un altro paese che sta scoprendo in questi anni la bellezza del design il mercato suonando molto bene l'azienda si appresta a raggiungere 500 milioni di euro abbiamo quasi 100 monomarca in tutto il mondo nei cinque continenti devo dire che l'apertura dei monomarca è per noi sicuramente un fattore strategico importante di crescita unito all'incremento del mondo contract soprattutto hospitality intesa come appunto alberghi ma anche service apartments dove ci chiedono cucine armadi su cui molteni è certamente un nome globale